Biancio di spesa, adesso venite tutte con le tasse pagate perché io non ho i soldi per aggiustare la scuola perché a quarto nessuno paga le tasse. Noi le paghiamo, paghiamo la tasse! E' stata questa la risposta a caldo del primo cittadino di quarto ad una folla di mamme inferocite alle prese dallo scorso settembre con problemi strutturali alla scuola Elsa Morante. Una risposta che non ha fatto altro che esacerbare gli animi dei genitori di circa 200 bambini, tanti sono gli alunni che dall'altro ieri non possono più entrare nelle loro classi. In principio erano due le aule che a causa di infiltrazioni d'acqua erano divenute impraticabili. Da due si è passate a tre, poi a sei, oggi sono ben dieci. Dieci aule su 28, un terzo del plesso Elsa Morante è impraticabile. Purtroppo la situazione delle infiltrazioni d'acqua si è aggravata con le ultime piogge anche perché non sono stati fatti interventi a risolvere il problema se non un intervento che è stato definito di tamponamento che però non ha dato risultati sperati in alcune delle quali gocciolava anche la pioggia. E inoltre al piano superiore vi era un problema anche con l'impianto elettrico che saltava continuamente perché probabilmente dell'acqua era gocciolata nelle plaffoniere. Un disastro non imputabile alla dirigenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo Terzo Gadda che dal primo momento ha sollecitato un intervento da parte della pubblica amministrazione. Era il 21 agosto quando dopo un primo soppu per al luogo si evidenziava la necessità di provvedimenti urgenti al plesso Morante ma l'intervento tampone è servito a poco. Già a dicembre il dirigente scolastico si vede costretto a chiedere un ulteriore intervento del Comune non ricevendo risposta e il 7 gennaio avvia un sollecito formale. Lo stesso fa il 22 gennaio fino ad arrivare al 7 febbraio quando un gruppo di genitori allarmati allerta i vigili del fuoco. Si delimita un'intera area interdicendole nell'accesso ed è il tecnico comunale a relazionare in merito all'urgenza di una manutenzione straordinaria. Il 29 febbraio interviene anche l'ufficio territoriale della Prefettura di Napoli che diffide il Comune di Quarto ad adottare tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ma se arriva a marzo la situazione peggiora di giorno in giorno divenendo ingestibile per la sola dirigenza scolastica. E' a questo punto che i genitori supportati dalla consulta dei giovani di Quarto si riversano in corteo all'ingresso del municipio dove intercettano il sindaco che viene ancora una volta invitato a rendersi conto di persona della situazione. Vogliamo di nuovo l'incontro con il sindaco perché noi l'abbiamo invitato a venire alla scuola il sindaco non è venuto, il consiglio tecnico... Il sindaco lavora, non è che non è venuto. Anche loro! Abbiamo avuto la visita del sindaco per la prima volta da quando si sono verificati questi disagi e dell'ufficio tecnico che invece è stato spesso da noi consultato e è stato ribadito quello che già ieri l'ingegnere Bramante aveva anticipato al termine del sopralluogo cioè l'inagibilità di queste aule e la difficoltà per motivi economici di effettuare i lavori radicali di impermeabilizzazione che sarebbero necessari per risolvere definitivamente il problema. Questo pomeriggio si è riunito il consiglio d'istituto ed ha deciso che tre aule saranno ricavate all'interno del plesso Morante due classi saranno ospitate dal plesso Gadda cinque dal plesso De Filippo ma pare che i genitori abbiano deciso che da lunedì i loro figli non andranno più a scuola a muoverli verso questa drastica decisione la mancanza di rassicurazioni sulla sicurezza dello stabile nella relazione stilata dall'ufficio tecnico del comune dicono le mamme si indicano come inagibili le dieci classi oggetto di infiltrazioni ma non viene specificato che il resto dell'edificio è sicuro L'ufficio tecnico comunque ha ribadito diciamo che i problemi riguardano soltanto le aule che sono state chiuse e che il resto della scuola può ospitare tranquillamente attività didattiche e ce lo notificherà comunque in giornata grazie a tutti Grazie a tutti